Signor Presidente, lei non può cambiare le idee per mantenere la poltrona, abbia la forza di fare una cosa diversa, lanci un messaggio profondo al Paese, racconti che c'è uno spazio per tutti noi. E questo spazio per tutti noi, maggioranza e opposizione, è uno spazio che non può essere cancellato dal fatto Ballucci al 2%. Vedete, ho sentito autorevoli leader dire che la popolarità impedisce di parlare. Come può uno con bassa popolarità portare le sue idee? Questa è la trasformazione finale della politica in reality show. Questa è l'idea che il consenso prevale sulle idee. Questa è l'idea che tu non puoi parlare perché non hai il consenso. Quando poi scopri che quando chiedi una cosa sui servizi segreti ti dicono di no alla prima volta, alla seconda, alla terza, alla quarta ti dicono di sì. Non sono i sondaggi a governare un Paese, perché per noi, a differenza di altri, la politica non è cambiare le idee per mantenersi nella stessa poltrona.